Questo è un video tutorial per far vedere come presentare, compilare e poi presentare la domanda per il concorso straordinario per scuola secondaria di primo e secondo grado per il posto comune. Si entra sul sito del Ministero dell'Istruzione e in basso a destra si va su piattaforma concorsi e procedure selettive. Una volta entrati in questo ambiente troviamo la lista istanze aperte disponibili dal 18 maggio al 16 giugno 2022 fino alle ore 23.59 proprio del concorso straordinario posto comune scuole secondarie ai sensi dell'articolo 59,9 bis del decreto legge 73.2021. Si può da questo link pagare la tassa per la partecipazione alla procedura concorsuale. Sono una tassa di 128 euro. Poi si va alla compilazione della domanda e entrando in un ambiente dove c'è l'informativa dove si indica anche come compilare e poi inoltrare la domanda. Andiamo adesso avanti per scegliere la regione. Il tasto da usare è proprio questo della piattaforma avanti e si va in una mappa interattiva dove poter scegliere la regione. Come vedete sono escluse la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige perché sono regioni a statuto speciale e queste due regioni non possono essere scelte ma può essere scelta la Lombardia, può essere scelto il Piemonte come il Veneto. Noi scegliamo in questo caso l'Emilia-Romagna. Scegliendo l'Emilia-Romagna facendo avanti entriamo in un ambiente dove ci sono i nostri dati personali. Facendo nuovamente avanti entriamo proprio nella sezione compila la domanda. Andiamo proprio a vedere come si compilano le sezioni di riferimento. Ce ne sono tre obbligatorie. Quella riferita alla classe di concorso che facciamo vedere come compilare. Si clicca, si scelta, sceglie la classe di concorso per cui si ha uno dei tre anni in scuole statali svolte nell'ultimo quinquennio. Per esempio immaginiamo di poter fare il concorso per scienze e tecnologie informatiche. Si aggiunge e poi si aggiungono i titoli di accesso. Il titolo di accesso può essere o l'abilitazione specifica sulla 041 o il titolo di studio che potrebbe essere la laurea magistrale in ingegneria elettronica. Dunque andiamo a dire che tipo di laurea si possiede, per esempio quella magistrale, e andiamo a scegliere proprio quella riferita alla materia, per esempio quella di ingegneria elettronica. Si stabilisce, si inserisce la votazione avuta al voto di laurea, devono compilare tutte le aree su 110, anche la base di votazione, la trasforma automaticamente in centesimi, poi pretenderà di avere la data di conseguimento del titolo che va appunto inserita, come vediamo, in questa area qua. Ecco, si inserisce la data di conseguimento, il luogo dove è stata conseguita, per esempio immaginiamo di averla conseguita nell'Università degli Studi di Catania e a questo punto questa sezione che vedete è per il titolo conseguito all'estero, non è questo il caso, e poi c'è una dichiarazione di non essere stati assunti in ruolo, anche se a tempo determinato, dalla prima fascia GPS nell'anno precedente. A questo punto se la laurea dovesse pretendere altre aggiunte di esame di CFU, questa sezione è quella che si deve compilare. Noi possiamo fare salva e a questo punto è salvata la dichiarazione del titolo di accesso e la scelta della classe di concorso. Poi qui abbiamo i titoli di servizio che possono essere inseriti in quest'area qui e possiamo vedere che per esempio ci sono obbligatoriamente anche altre dichiarazioni che devono essere diciamo obbligatoriamente fatte come la cittadinanza che può essere per esempio italiana o il godere dei diritti di essere iscritto nelle liste elettorali, vediamo qui, oppure di donna età fisica, le condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Per il caso della disabilità bisogna inserire la questione della disabilità, ma se non si è disabili non si compila questo ambiente. Si deve dichiarare di aver effettuato il versamento di cui allinche all'inizio e poi la privacy. Speriamo che questa breve introduzione alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia stata utile a tutti i nostri telespettatori. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.